Musica Benvenuti! Salve salve! Una novità assoluta! Questa è Russia e noi stiamo giocando a Monster Hunters! Perché Monster Hunters? Perché è un gioco che mi piace tanto! E perché ha una grossa componente multiplayer! Ok la versione per... Aspetta che mo mi devo un attimo... Per PS non ce l'ha, non ne ha una grandissima! Però c'è la possibilità, vedete, tra un po' ci si avvicinerà Russia! Intanto vado alla fattoria... Allora, accendere l'interruttore Vulan... No, volevamo... Perché vai alla fattoria? Così, per far vedere la fattoria! Ok, io ti aspetto nella sala online! Sei sempre il solito! Fai vedere la fattoria prima, no? Salve, questa è la mia fattoria! Soprattutto... Oddio, ma non mi ci ritrovo tanto! Dì che cosa si fa la fattoria! Allora, nella fattoria c'è la possibilità di raccogliere insetti... Ad esempio, catturare insetti! Mi si vedono le chiappe! Questo è Monster Hunters 3 Unite per PSP! Possiamo catturare gli insetti oppure possiamo... Fammi mettere in direzione... Possiamo estrarre minerali! In sostanza, una fonte di approvvigionamento immediata di materiali! Oppure possiamo pescare! Andiamo a pescare, andiamo a pescare! Aspetta, andiamo a pescare! Non mi ci ritrovo con un po' di laghettino, eh! Allora, se devi sapere che stiamo registrando e Russia sta guardando dalla fonte di registrazione Inizia che guarda il televisore! Eh, perché il televisore è lontano! Allora, adesso peschiamo una volta sola giusto per far vedere come si pesca! Prossimamente faremo anche una puntata per il Nintendo Wii! No! Aspetta! Mi stai... Questo me lo devo vedere là! Aspetta, non giro oggi! Quando il galleggente va giù... Premiamo la X! Il galleggente va giù... Giù! Signora, mi cresci! Adesso! Oh! Wow! Che pescatore che sono! Ha! Sgombro coltello! E con lo sgombro coltello, per esempio, ci si possono affilare le lame! Andiamo! Sì, io ti sto già aspettando nella sala... Sempre risolto! Questo rumorino che si dite in sottofondo è la mia, PSP! Ovviamente vi entrava il microfono mentre quella di Russia è il rumore che prendete i fondi! Infatti adesso abbasso il volume in modo da darvi meno... Dici che si sente? Non può essere! Torna alla fattoria poche! Allora... Quella è la sala! Qua, vero? Sì! Guardate questo maialino! Ma non è fantastico! Vabbè, non mi faccio vedere come si prendono i maialini in braccio! Sala del quarto online! È online, vero? Sì! Sala 1! Quelle connessioni in corso! La connessione attraverso il wifi! Sì! Tanto da qua mi ci sono già connessi diverse volte! Perché se mi metto vicino al televisore non sono vicino al microfono! Sì, ma puoi guardarlo! Eh, ho capito! Ma ci devo alluscare lontano! Meglio che alluscare il ritardo! Alluscare il termine indigeno per guardare con attenzione! Scegli una missione, va! Scegli la tu! Perché la scegli sempre io! Beh, la scegli sempre tu! Scegli la tu! Vabbè! Guarda, ho una missione qua dello scazzo! Controlla tra bella missioni! Sì! Io sono quello! Ecco, esattamente! Potete leggere anche dei nomi facili! Sapere chi è chi! Eh, dice che non c'è nessuna missione da controllare! Non da controllare da prendere! Eh, non me la fa prendere nessuno! Perché? Non lo so! Ad esempio mi faccio dare una missione da una di quelli del tavolo! Questo tavolo! Ma facciamo una missione... Intanto... Rivello 3 dai, così se moriamo... Rivello far vedere che ci si può allegramente sedere! No, raccolta no! Alziamoci! Uccisioni! Uccidi il Geprey! L'abbiamo fatto tante volte il Geprey? Il Geprey? L'abbiamo ucciso il Geprey? Sì! Il Velocidrome? Non ce la facciamo! Ci abbiamo provato! Il Geldrome? No! Siamo attrezzati... Lo squallo di terra? No! Siamo attrezzati da montagna! Paludi, Geprey! No! Deserto, deserto, palude... Montagna! Eh! Perché ovviamente le missioni sono di tre tipi sostanzialmente! Cioè, in tre posti... Il Gendrome è montagna di neve di notte! Ah! Ok! Montagna, palude e deserto! Ovviamente per queste missioni c'è bisogno di un equipaggiamento particolare! Non si può andare con i vestiti da montagna e del deserto! Schiatti di caldo! Ad esempio! Sulla tabella missione puoi andare! Ok! E ci sono missioni di raccolta, missioni di uccisione o di cattura! C'è una missione di uccisione! Adesso vedete... La scia va lì! Io ho preso la bacheca! Controlla tabella delle missioni! La buona missione dovrebbe essere la mia richiesta di compagno! Seleziona la missione! Missione di caccia, quella lì! Livello tre! Tre stelline! Siamo a fare una prova! Assalto al Gendrome! Sì! È questo? Sì sì! Vuoi unirti a questa missione? Sì! Ok! Ok! Andiamo in missione! Andiamo! Gruppo sciolto! No! Perché gruppo sciolto? Allora un attimo che adesso devo scoprire come si rientra... Vediamo la missione... Perché sei scelto il gruppo? Scusa! C'è un piccolo problema che adesso cerchiamo di risolvere... Non lo so perché sei scelto il gruppo... Vabbè, missione abbandonata! O ci rientriamo! Intanto vi faccio... Prendi a tu la missione, no? Mentre... Inizia di girare a caso! Secondo rientra quando... Si fa a vedere... No! Livello... Quello che ti pare adesso! Due! Vai, vai! L'ombra delle montagne! No! Di caccia! Dai! Quella di caccia! Direi delle montagne! Questo, ok? Si! No, si! Si! Di che ne vuoi reclutare solo due! Giocatori due! Conferma! Scendi sotto e conferma! Nota! Scendi! Bene! Calmino eh! Ho confermato! Nessun messaggio è messo! Dove mettere messaggio? No! Perché hai messo la nota di reclutamento? Si! Ok! Speriamo di riuscire a farcela! Io adesso sto controllando... Seleziona! Si! Ok! Basta che vado avanti alla zona di partenza e premo! Ok! Vai in missione! Ok! Intraprendere la missione? Si! Sì! Ce la facciamo! Probabilmente! Si! È un po' che non ci rigioco! Mi devo un attimo... Ricordare! Inizio missione! Questa schermata che vedete non è una schermata a caso! In realtà è la mappa stilizzata... Di tutto il mondo di Monster Hunter! Di tutto il mondo di Monster Hunter! Vedete la montagna sopra, il deserto... Questa cosa mezza rossa! La paluda e quella di lato! Questo è un gioco diffusissimo in Corea e Giappone! Ok! Si può andare! 50 minuti! Allora c'è una cassa... Da cui... Ecco qua! Allora devo guardare il tv! Io ho appena buttato delle robe! Si! Guarda pure! Ci scambiamo di posto che ti metti più vicina? Io non so che cosa ho buttato... Non ho un po' nulla! No! Ok! Allora la mappa la prendiamo! Questo lo prendiamo! Questo pure! Io ne prendo uno, uno, uno! Ti lascio uno, uno, uno! Io riesco! Non mi piace accedere alla... Questo lo prendiamo! Una mappa! Piccola cote! Due pozze! Questo! Va bene! Due bevanti esistenza al gelo! Ok! I proiettili non mi servono perché... Non ho nulla! Questo che roba era! Coltello lancio avvelenato lo prenderei! Ok! La trappola la prendi tu? No! Non ci serve la trappola! Non lo dobbiamo catturare! Ok! Quindi possiamo partire! Ok! Si! Sì! No! Mi lo metto più vicino! Non ci vedo! Cambio! Cambiamo gentilmente di posto! Così... Lascia vedere... La più da vicino... Il... Adesso sentite il mio voce! Ovviamente... Più prontente! Lei può guardare la... Ok! Io ricordo che lei è la regista! Quindi si vedrà quello che vede lei! E questa è la mappina! Si! Già scoperta perché abbiamo preso appunto la mappa! Dal... Sì! Ma perché già l'abbiamo scoperta tutta nelle varie missioni! Ok! Dobbiamo salire! Sarà tipo tra sei... Ok! Facciamogli vedere un po' di combattimento! Perché sono già dieci minuti che li rompiamo le balle tra una stanza e un'altra! Ok! Ci avviciniamo delle bestie! Ah! Guarda che bestione! Ah! È già arrivato! Ok! No! Perché sto applicando? E qua! Che sto morendo come uno sgraziato! Perché questo... Fa le robe... Non abbiamo letto la scheda delle... Delle abilità! Ok! Abbiamo voluto farvi fare... Comunque! Questi sono i mosti che potete uccidere! Ok! Dove è andato a finire qua? Dai! Forza! Muoviti! Oh! Oh! Via! 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 Allora! Li por... Anche io! Andiamo! Perché altrimenti non gliela posso... Ogni tipo mi è stato tutto... Dobbiamo imparare a conoscere... Allora in questo gioco è fondamentale... E' fondamentale conoscere i mostri! Come in un buon MMO Le potenze Eviti anche di darmi Mi ha perduto una botta Qui si è colpita Allora qui non c'è il puntamento quindi vi dovete trovare per colpirlo Io ho appena preso una botta D'arascia terribile Mi è levato mezza vita Dai forza un po' Via 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 Che credo che stia facendo quella roba sua Non si è abitato a giocare a questo gioco in tv Hai avuto pure l'insetto Rush è estremata Eh si perché Non ci sta capire molto C'è un modo per darvi la gambe Cioè rizonare fuori dalla zona In questione e salvarvi I gattini che ci riportano al campo base Ok io ho zonato Posso prendere delle pozioni Vediamo Tu hai rizonato? Sì Se mi aspetti Prendo anche Vediamo un po' intanto cosa ho Ah Quattro razioni Una pallavittura Cosa mai non c'erò questo poi Prendo anche della carne Ah qui potremmo poi vedere La cucina Oddio Morciato carne cruda No Speedo barbecue Se vuoi faccio vedere la cucina Ma io ho buttato della carne cruda Sì se vuoi faccio vedere la cucina ripeto Faremo per una prossima puntata Ok Oppure possiamo Sono 15 minuti Vuoi far vedere la cucina Chiudiamo qui? Ah intanto facciamo vedere la cucina Il nostro speedo barbecue E la nostra carne cruda Che è tutta una musichetta Che quando finisce la musichetta Che non ho idea Bistecca ben cotta Eeeh Mitica E la bistecca ben cotta Vi serve per l'energia Non per la vita Per l'energia Eccolo E al coso 1 Voglio mandare? Ma come si raccoglie la carne che ho buttato? Non mi ricordo più Ah Buttate e basta Ok andiamo No Mi sa che hai rizzonato il mostro Cioè che non è più qui E infatti non è più qui Guardalo Sta arrivando No sta andando via Però guardate che meraviglia Ok Uccidiamo adesso qualche mostro Senza venire uccisi noi? Sì Giusto per far vedere Che non siamo completamente dei Nob E comunque Ah ci sono le classi Non abbiamo detto Come Come più o meno in tutti i giochi Eeeh Si possono raccogliere Eeeh Le cose Quindi fare comunque Raccolta Si può pescare Si può minare In ogni missione Ad esempio Io qui credo che Se non mi ricordo male C'è qualcosa da raccogliere Però no le zoniamo Adesso facciamo vedere un'altra zona Zona 2 Ok Ok ci sono i muffloni Io attacco i muffloni Già si è arrivato Con calma Ah questi sono quelli nuovi Allora questi sono muffloni Diciamo Dai quali Si può prendere la carne Sostanzialmente Sono buoni Per Per la carne Basta Punto Finito Ciao Morto Si rimette L'arma a posto Se mi ricordo come si fa Così Si va sulla preda E si preme Cerchietto Ho la lingua di popo io Osso brutto Lingua di popo Pure io Ho la lingua di popo E tutte le cose che si raccolgono Dai funghi Alla lingua di popo Al miele E cavoli vari Servono per essere combinati Per fare le pozioni Ammazziamo anche questo Già che ci troviamo E un piccolo muffloni che muore Forza un po' Sei morto? Sei morto? Quando fa questi sussulti Vuol dire che è morto Credo Ho visto che non so sicura Allora Se vi è piaciuto Aspetta Aspetta Che raccoglierò questa volta Carne cruda Che sarà la vostra La vostra fonte di sostentamento Quando vi saranno qui Tutte le pozioni Io osso brutto Dove sei? Sono dentro il mostro Sono dentro il mostro Dove sei? Ecco ci vogliamo fare una Ci mettiamo vicino E vi salutiamo Eccoci qua Ciao a tutti Arrivederci Ciao a tutti Arrivederci Arrivederci